Architetto Paolo Verda, amministratore unico dell'arte. L'arte è l'azienda regionale territoriale per l'edilizia. La provincia di Imperia, qual è la situazione dell'arte? C'è fame di abitazioni per il sociale? Ci sono liste d'attesa oppure è un'isola abbastanza felice sotto questo profilo? Probabilmente lo era, forse unica tra le quattro province Liguri, però adesso la situazione di disagio si è ampiamente diffusa per cui anche noi adesso abbiamo esigenza di mettere sul mercato, di affidare, di assegnare alloggi a queste fasce più deboli che è un settore che si sta decisamente allargando. Per cui sì, c'è fame di alloggi di edilizia residenziale pubblica e anche di fondi soprattutto, che quelli sono decisamente diminuiti purtroppo. Sono fondi pubblici che arrivano in prevalenza dalla regione? Sono fondi pubblici in parte, perché poi in parte i nostri interventi sono anche autofinanziati, nel senso che noi possiamo mettere in vendita parte del nostro patrimonio pubblico o privato come ad esempio la nostra operazione che abbiamo fatto su Imperia Oneda, quindi il palazzaccio che abbiamo appena ristrutturato e abbiamo messo in vendita e quindi questi sono tutti i fondi che poi noi rimettiamo nel mercato ma per l'edilizia residenziale sociale. Quindi ci autofinanziamo sia con dei fondi pubblici che con la vendita, ripeto, del nostro patrimonio che con la vendita di immobili che abbiamo recuperato. Ecco, possiamo avere qualche numero? Non so, qual è la zona dove c'è più necessità di questi appartamenti, diciamo così, di carattere sociale? Non so, l'Imperiese e l'Entroterra oppure la zona di 20.000 e l'Entroterra oppure la zona così più nobile se passa al termine di Sanremo che è un pochino la zona più ricca oppure il Dianese e l'Entroterra del Dianese? In questo momento sicuramente su 20.000 perché su Imperia abbiamo in programma e stiamo concludendo un intervento importante su Baite che sono 24 nuovi alloggi che speravamo di consegnare devo dire alla fine dell'anno scorso, probabilmente consegneremo prima dell'estate. Ne abbiamo in programma altri a brevissimo termine, inizieremo un altro intervento, anzi due interventi su Porto Maurizio per cui su Imperia devo dire che la risposta la stiamo dando. Su 20.000 invece? Su 20.000 abbiamo in programma con il Comune, stiamo cercando delle aree per fare un nuovo investimento i fondi in questo caso ce li abbiamo e insieme alla Comune di 20.000 e alla Regione Liguria stiamo cercando di trovare un nuovo sito per poter edificare dei nuovi alloggi perché 20.000 in effetti siamo parecchi indietro, parecchi indietro non perché non abbiamo alloggi ma perché le domande sono in continuo aumento, il disagio anche in quella zona e soprattutto in quella zona è in continuo aumento. Si parla spesso di classifiche, di liste d'attesa e dalla parte del popolo si dice ma questo governo, queste nostre leggi, questi nostri regolamenti favoriscono gli immigrati a danno dei residenti, è così oppure è una favola metropolitana? Diciamo che non essendoci distinzione dal punto di vista delle graduatorie tra l'immigrato e il cittadino, i residenti e gli italiani è chiaro che si va a prendere le fasce più deboli, le fasce che hanno più problemi, quindi spesso di disoccupazione o spesso di disagio abitativo, questi sono sostanzialmente i punti che danno in graduatoria e quindi probabilmente spesso gli immigrati hanno più problemi ma devo dire che purtroppo anche i residenti, gli indigeni, noi liguri aumentano la difficoltà anche per noi. Assolutamente, devo dire che io sono in arte da tre anni però devo dire che ho visto anche proprio in questo periodo di tempo molto limitato un aumento del disagio socio-abitativo veramente impressionante. Quello che sta inquadrando adesso Marco è il vecchio tribunale di Imperia, tribunale storico dove c'era la corte di Assise, processi storici, quello di Allegri, del famoso Bitter, quindi qui c'è un pezzo veramente di storia di Imperia e della Liguria, della riviera di Ponente. Siamo qui, questo è il largo Gona che era stato sindaco per tantissimi anni, un sindaco anche benvoluto della città di Imperia e siamo qui perché alle nostre spalle, che adesso Marco sta inquadrando, c'è il palazzaccio, quello che viene chiamato il palazzaccio che è un pezzo storico, proprio chi ha la fortuna di abitare qui abita la storia di Imperia e questo palazzaccio è l'ultima opera, l'opera più recente del recupero che fa l'arte come istituzione proprio dei pezzi anche storici delle varie zone d'Italia e qui siamo in Liguria, siamo nella riviera dei Fiori. Ecco questo palazzo è veramente un palazzaccio, però è un palazzo storico perché si vedono due colori anche perché distinguono due momenti di questa costruzione storica. La parte grigia, diciamola così, che adesso Marco sta inquadrando è la parte seicentesca dell'edificio, la città di Oneglia terminava proprio in questo punto dietro si vedono ancora le vecchie mura della città. Invece in questa parte, la parte esterna alla cinta muraria, era stato edificato da Idoria un castello, questo castello poi tra l'altro demolito, iniziato a costruire per ben due volte e poi per due volte demolito, sulle fondazioni di questo castello è stata poi costruita una chiesa, dietro vediamo la torre che è proprio su sedime della vecchia chiesa. Quindi chi ha la fortuna di acquistare un locale qua oppure un'attività commerciale abita la storia d'Imperia, abita la storia, l'epoca di Idoria, l'epoca successiva e l'epoca anche antecedente. Certo, certo, assolutamente sì. Quindi questa è una valenza storica importante, come l'importanza del recupero che abbiamo fatto. Moderno, tecnologico, dotato di tutti i conformi. Assolutamente sì, è la ricerca di operazioni anche esterne per poter finanziare i nostri interventi, che sono poi, ripeto, gli interventi sociali e quella dell'iniziale residenziale pubblica. Per cui è un'operazione, questa ne abbiamo in piedi un'altra su Porto Maurizio che appena avremo concluso, andremo, ripeto, ad usare il ricavato di queste operazioni per la nostra edilizia.